PEC è l'acronimo di posta elettronica certificata. Di fatto la PEC è un servizio di posta elettronica e si usa esattamente nello stesso modo di una normale casella mail, ma in più ha alcune caratteristiche specifiche che le consentono di essere un sistema con valore legale. Cosa significa? Semplice! Inviare una mail PEC è come inviare una tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno, solo che è tutto molto più veloce, comodo ed economico. Tutti possono avere e utilizzare una PEC. Non serve nessuna installazione particolare o conoscenza specifica. Basterà acquistare il servizio da un gestore certificato come Aruba, creare la casella, utilizzarla attraverso la web mail o l'app dedicata oppure configurarla su un client di posta come Outlook o Thundlebird. La PEC infatti si utilizza proprio come un normale servizio di posta. Dovrai inserire il destinatario, scrivere il messaggio e inviarlo. L'unica differenza è che riceverai automaticamente delle notifiche, ovvero delle mail, che ti informeranno sullo stato dell'invio e sull'avvenuta consegna per avere un vero e proprio tracciamento dei messaggi inviati. Vuoi sapere di più sulla posta elettronica certificata? Guarda il prossimo video! Grazie a tutti!